Due giorni di tamponi, centinaia di studenti e docenti sottoposti ai controlli da parte del personale dell'Ulse 7 Pedemontana. Il risultato? Neppure un positivo al Covid-19. La campagna di tamponi che l'ente di formazione professionale IRIGEM ha portato a termine nelle sedi di Bassano e Rosà dà un segnale forte al mondo della scuola. IRIGEM ha deciso infatti di investire denaro ed energie in questa campagna, in primo luogo per parlare agli studenti e alle loro famiglie. Un modo semplice e diretto per far capire che il rispetto delle regole può fare la differenza in questo momento di grande difficoltà per la scuola italiana. In un'epoca di grandi cambiamenti l'iniziativa di IRIGEM diventa un faro per illuminare la rotta da seguire e gli stessi ragazzi ne sono consapevoli. Ci sono misure di sicurezza che comunque rispettiamo, sappiamo che non è per darci noia a noi ma per la sicurezza di tutti quanti. Comunque ci sono tutte le precauzioni, le barriere quando siamo in laboratorio, i banchi distanziati e quindi insomma siamo più tranquilli. Mascherine, igienizzazione, cura delle dinamiche scolastiche garantiscono la sicurezza dei giovani e delle loro famiglie. Un passo avanti verso la vittoria sul nemico invisibile. In classe siamo tutti distanziati con i banchi, abbiamo sulla mascherina. Quando si esce sempre la mascherina e soprattutto quando si esce da scuola cerchiamo di essere sempre distanziati. Beh, indossiamo le mascherine tranquillamente, cioè a volte tanto avendo il metro di distanza possiamo comunque togliercele, però cerchiamo di resistere. Il sistema scolastico accomuna però i destini di studenti e docenti, favorendo il concetto di corresponsabilità. Io ritengo opportuno che venga fatto questo test rapido a tutti i ragazzi in quanto si vive in una comunità. Ogni ragazzo vive all'interno della famiglia per cui è bene capire la propria situazione e lo stato di salute, benessere proprio e benessere di tutti quanti. È un'iniziativa importantissima per proteggere sia gli studenti sia i genitori che l'intera comunità. Alla fine della campagna di tamponi tutti gli studenti e i docenti sono risultati negativi al coronavirus. Un risultato che anticipa le scelte che la scuola pubblica dovrà fare nei prossimi giorni, confermando l'ente di formazione professionale IRIGEM come punto di riferimento nazionale per la gestione scolastica dell'emergenza coronavirus.